In questi giorni prenatalizi, dove tutti pensiamo ai regali per i nostri cari, abbiamo l'occasione di non banalizzare le nostre scelte. Design Italy fa per noi una selezione di straordinari prodotti italiani di qualità e di design e io, grazie a Tiskely News, ve li presento. Cercate un regalo per un uomo? Approfittate della selezione studiata appositamente per i regali maschili come gli occhiali da lettura face a mano. Le pipe di Venetica o i gioielli della collezione Ombre, disegnati da Alba Gallizia e Nazuko Toyofuku. Volete qualcosa di speciale per la vostra tavola? Su Design Italy c'è una selezione di articoli studiati per la tavola e per la casa in occasione delle feste natalizie. Da non perdere l'albero di Natale luminoso in cartone di Les Mores, una scelta ecosostenibile di cartone riciclato e riciclabile. Il design per la casa di Paola C. E le deliziose tovagliette all'americana di Marina Colombo. Oppure, se non sapete cosa scegliere, Design Italy ha creato una selezione di articoli per i più indecisi, con tantissimi suggerimenti. Il regalo perfetto è il regalo che fa sentire unici. Come unici sono gli articoli che Design Italy seleziona. A Natale regala un oggetto italiano fatto con cura e con passione. E per chi compra sul sito una fantastica sorpresa. Nell'articolo tutti i link utili.